Buongiorno a tutti, sono Marco Cavazzoni, doctor veterinario, biologista e esperto di nutrizione animale a questo settembre seminario dell'USAPET sulla nutrizione. Questa è la parte penultima riguarda i fatti. Siamo parlando della carnitina e problemi relati con l'accumulazione excesiva di fatti nel corpo. La carnitina è derivata da aminoacidi, ha sintesi epatiche e renal, iniziando da lisin e methionine, ricordate quei aminoacidi? Sono componenti di proteine, li vediamo nel primo seminario. insieme con vitamina B6, vitamina C, niacin o vitamina PP e iron. La carnitina è molto importante perché può trasferire, può portare i fatti di fatti, che sono liberati dalla digestione e trasferiti nel corpo, dall'interno delle cellule all'interno del mitocondrion. Qual è il mitocondrion? Le mitocondrioni sono le centrali energetiche, le energetiche delle cellule. Quindi la carnitina è permetterà l'entranza del fatti e dentro del mitocondrion ci sono molte reazioni metabologiche, che sono chiamate di beta-oxidazione, che sono utili per produrre energia fuori dei fatti di fatti. Poi puoi immaginare quanto è importante l'utilizzo corretto, l'utilizzo corretto dei fatti di fatti di fatti. Se non usate abbastanza, se non consumi fatti di fatti di fatti di energia, puoi avere un problema di imbalanza. Poi puoi avere, su un'altra parte, l'entranza excesiva dell'energia, a causa delle alimenti molto richieste in fatti, che, come ricordate, sono più energetiche che i carboidrati e i proteini, e anche questa l'entranza excesiva dell'energia perché delle mani irregolari, per esempio i tratti o i fatti di fatti di fatti. alcuni studi scientifici dicono che anche il 10% dell'entranza totale dell'energia degli animali può procedere dal trattamento della vita normale, che è troppo, perché crea un'imbalanza. Quindi avrai, su un'altra parte, l'entranza excesiva dell'energia, e, su un'altra parte, l'energia non sufficiente. Questo può essere dovuto per molte ragioni. Un'attività fisica riducida, magari animali che vivono in casa, ma anche per le condizioni paraphysiologiche, come la sterilizzazione, avrai un'attività metabologica, quindi meno consumazione dell'energia e anche per il processo dell'energia. I animali seniori si muovono meno, il loro metabolismo sarà più lento, e, come questo, si ottengono fatte e sono più pronti a diventare obese. ci sono anche fattori patologici, per esempio l'osteoarthritis, se gli animali hanno problemi di muovere, diminuiranno la attività fisica e aumenteranno l'accumulazione di fatta, ma anche problemi metabolici, come per esempio l'hypotiroidismo. Quindi l'obesità è anche relativa a altre patologie, una delle più importanti è la diabetica. La diabetica tipo 2, molto tipica del bambino, anche chiamata di diabetica resistente insulino o indipendente insulino, riferisce alla capacità dei fatti di inibire l'attività dell'insulino. L'insulino è produzione dal pancreas endocrino. Ricordatevi il pancreas exocrino? È stata la parte del pancreas che produce enzimi usati per la digestione. Il pancreas endocrino non produce enzimi, è produzione hormoni, specialmente hormoni che sono relazionati al balance di glycemia. L'insulino riduce la glycemia, il glucagone aumenta la glycemia, quindi la quantità di glucosa nel sangue. L'insulino è un'ormone che funziona come una chiave per aprire i canali di celli per la glucosa. se hai l'insulino che funziona bene, le celli sono potenti accedere la glucosa dal sangue e lo usano con un propósito energetico. Se non hai l'insulino, come nel tipo 1 diabetico, molto tipico del bambino, e questo è dovuto da un amico del pancreas. O se hai abbastanza di insulino ma il grasso interagirà, impedirà l'insulino di funzionare proprio, quindi avrai un tipo 2 diabetico o indipendente insulino. Il grasso è potuto produrre hormoni anti-insulino e diminuire la sensibilità delle cellule verso l'insulino. Quindi avrai abbastanza di insulino ma non funzionerà. Questo problema è regolabile molto spesso che non è il caso del tipo 1 diabetico. Quindi, con una riduzione dell'obesità, con una riduzione di peso excesivo, avrai una migliore efficacia dell'insulino. Come ridurre il peso del corpo? Questo è, specificamente, un approccio nutrizionale. Per esempio, devi diminuire la densità caloricica dell'esulino e aumentare la sensibilità di satanità. Quindi gli animali devono essere pieni, per sentire pieni, per non mangiare troppo. Come avrai questi 2 molto importanti aspetti della alimentazione di dietetica? Prima di aumentare le proteine in modo da usare per produrre energia l'energia invece di fatte e, in questo caso, per ridurre il peso. Come abbiamo detto, il peso è molto energetico, se vuoi ridurre l'energia della città, devi ridurre il peso. Non solo, puoi aumentare molte le fibre. Vedremo nei prossimi seminari che le fibre sono un carboidrato che non è digestato, quindi non produrre energia. Più più aumentare le fibre e meno è l'energia donata dalla città. Non solo, le fibre dà anche satietà perché c'è un composto di fibre che è la fibre solubile che è potente prendere l'acqua nel stomaco, aumentare il volume e rendere l'anima sentire pieno. L'ultima caratteristica è usare una source di indice low glycemic quindi source di che sono lentamente alimentare glucosa nel sangue e in questa modo favoriscono un'energia più 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 e meno stress per controllare questa glycemia. Quindi può essere usato sia in caso di obesità e in caso di diabetes. Questo è l'ultima parte della fatica se volete. resta con noi perché nel prossimo seminario concluderemo la parte della fatica. Nel seminario parliamo di carnetina che è usata in permettere l'entranza del acido della mitocondria per produrre energia e poi vediamo problemi relati con l'accumulazione di fatica obesità e tipo 2 e loro risoluzione un grande hug e grazie Marco Cavazzone e grazie